Uno stanziamento importante che non copre tutti i danni subiti dalla montagna Veneta, ma che offre un importante ristoro agli innumerevoli interventi sostenuti e da sostenere. Quasi 756 milioni di euro che il Governo ha disposto per il prossimo triennio per coprire i primi interventi ruggenti di protezione civile relativi agli eccezionali eventi meteorologici che si sono abbattuti a cavallo fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre dello scorso anno. È stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a comunicarlo a Roma, al Presidente Veneto Luca Zaia, specificando che le tre tranche, più o meno dello stesso importo, saranno relative ai bilanci di ogni anno, dall'anno in corso fino al 2021. Zaia nel ringraziare il Governo ha così battezzato, per così dire, l'imminente fase della ricostruzione dopo aver completato la fase di analisi e applicato senza troppi indugi gli interventi di assoluta rurgenza. Sempre il Governatore Zaia, nella sua veste di commissario delegato per l'emergenza maltempo, ha poi siglato un'ordinanza che attribuisce le funzioni di soggetto autotore ai sindaci di due comuni in provincia di Belluno, cioè Lozzo di Cadore e Perarolo di Cadore, e uno in provincia di Vicenza, Lusiana, oltre che al Presidente dell'Unione Montana della Val Belluna. Con questa ordinanza sono attribuite prerogative specifiche ai primi cittadini che potranno svolgere specifiche funzioni riguardo alle operazioni di pulitura delle aree boschive, distrutte dagli schianti. Per realizzare le azioni necessarie i sindaci potranno inoltre contare sull'assistenza dei tre presidi operativi avanzati di Roccapietro, Lozzo di Cadore e Asiago, attivati nei giorni scorsi dalla Regione del Veneto con il coordinamento del Direttore di Avepa, Fabrizio Stella, proprio per essere più vicini alle esigenze degli amministratori delle zone più colpite.